Inizia oggi l'ottava giornata di andata nel girone F di Serie D, aspettando Chieti e L'Aquila in campo domani pomeriggio. Oggi vanno in scena Avezzano e Notaresco, i marsicani a Termoli ancora senza lo squalificato Ortolini, ma con il rientro in attacco di D'Alessandris. I Teramani in casa senza quattro titolari, Intinacelli, Patanè, Pietrantonio e Pulsoni, contro il Fossombrone, primo in classifica a pari punti con Chieti e Samb. Fischio d'inizio per entrambe alle ore 15. Domani il Clou, all'Angelini arriva il Fano con fischio d'inizio alle 14.30 e Chianese vuole continuare a vincere davanti al suo pubblico per restare al comando. Il tecnico potrebbe schierare l'ottava formazione diversa in altre tante giornate, ma deve sciogliere ancora diversi dubbi, soprattutto in attacco. I neroverdi dovrebbero passare al 4-4-2 e giocare con due attaccanti, Fall è sicuro di una maglia da titolare, al suo fianco ballottaggio, barlafante e ardemagni, con il primo che scalpita per partire dal primo minuto dopo lo scarso minutaggio nelle ultime partite. In quella posizione non è escluso però l'impiego di Masavult per sfruttare le sue doti offensive. Anche l'Aquila gioca in casa al Gran Sasso d'Italia alle 14.30 contro il Roma City. Epifani ancora alle prese con qualche defezione, non solo il lungodeggente Jonathan Alessandro e l'acciaccato Francesco Persiani, alle prese con un fastidio al tendine. Si è aggiunta nelle ultime ore la tegola Bacio del Racino, da poco ristabilitosi dai postumi di un attacco influenzale, ma fermato da un colpo all'alluce. Se Epifani dovesse optare ancora per il tridente sarebbe costretto quindi a schierare con ogni probabilità il terzetto offensivo formato da Galesi o punta centrale, Banegas esterno destro e Sarrizu esterno sinistro. Mercoledì prossimo, primo novembre alle 14.30, tutti di nuovo in campo per la nona giornata.